Buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti a questo incontro con la stampa dedicato al focus argentino che realizziamo quest'anno all'interno del festival e più in generale oltre al focus direi un incontro dedicato alla rappresentanza del cinema argentino all'interno del festival. Quest'anno vede una partecipazione ricchissima di 10 film complessivi, 5 disseminati in tutte le sezioni dal concorso internazionale al fuoriconcorso passando per il Torino Film Lab e altri 5 film che per l'appunto sono inseriti all'interno di un focus speciale dedicato alle opere prime e seconde argentine che si chiama Il gioco della finzione. Abbiamo il piacere di avere con noi diversi ospiti, vi li presento dalla mia destra, Camila Fabri, regista di Clara Sepierde nel Bosque, presente nel focus Il gioco della finzione. Costanza Feldman e Agustin Mendilarsu per Clementina, sempre all'interno del focus e Martin Reckman, mi scuso per la pronuncia orribile, regista della pratica, il film è presente fuori concorso, non fa parte del focus ma ci piaceva l'idea di mettere in dialogo lui insieme con gli autori del focus proprio anche per l'importanza che il suo cinema ha ricoperto all'interno del cinema argentino a partire dagli anni 90 fino ad oggi. E quindi in questo incontro vorrei porre all'inizio un paio di domande ciascuno specifiche rispetto ai vostri film e poi un paio di domande più generali sulla situazione del cinema argentino di oggi. Quindi inizio da Camila. Clara Sepierde nel Bosque rappresenta il suo esordio al cinema per lei che è soprattutto una scrittrice e regista teatrale. Il film affronta un trauma generazionale, l'incendio della discoteca Repubblica Cro-Magnon che provocò la morte di 194 persone, un trauma che lei aveva già affrontato da un punto di vista letterario con la novella El Dia che apagaron la Luz pubblicata nel 2019. Ecco, quindi una prima domanda generale è che cosa l'ha spinta verso la realizzazione cinematografica e perché ha deciso per il suo esordio cinematografico di misurarsi nuovamente con quell'evento traumatico. Sì. Grazie. del micrófono bueno buen día gracias por venir bueno bastante un honor estar en esta mesa bueno la un poco ayer contaba la 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 película surge de una propuesta que me hizo dio goski un productor argentino trabaja con escritores y escritoras hizo unos proyectos que tenían que ver justamente bueno con qué pasa de lo literario a lo cinematográfico y demás entonces originariamente la propuesta tuvo que ver con escribir un guión que de alguna manera partiera de un libro que yo escribí que se llama el día que apagaron la luz que salió en argentina bueno más que nada en américa latina y relata bueno está esta tragedia que sucedió en buenos aires en el 2004 como voy a decir lo mismo que ayer pero es lo que como yo en su momento dirigí teatro y escribí teatro también sentía que que tenía la de alguna manera la capacidad y las ganas de de sumergirme en ese proyecto cinematográfico y en ese momento bueno después empezamos a trabajar con palo cherno que es el productor en este momento de la película así que creo que fue como una especie de mezcla de atrevimiento y de como y de deseo también y de como y de deseo también lo sé lo va a seguir salve a tutti vi ringrazio di essere qui per me effettivamente un grande onore essere qui e diciamo ne abbiamo ne parlavamo ieri dopo la proiezione no si dopo la proiezione del film in realtà il tutto è derivato da il progetto diciamo l'idea del progetto è nata da quella che è stata una proposta di un produttore argentino che principalmente opera lavora con scrittori e scrittrici e di teatro anche e scrittori e scrittrici nel per lo sviluppo di quelli che sono progetti che partono dalla letteratura e poi arrivano diciamo alla alla trasposizione cinematografica di alcune opere e mi propose appunto ci si passa attraverso la scrittura di una sceneggiatura ovviamente mi propose di scrivere una sceneggiatura sulla base per quanto riguarda questo partendo dal libro che ho scritto che si intitola di a che ha pagato la luce il giorno che spensero la luce e che parlava questo libro il libro della tragedia che è successo nel 2004 nella discoteca cromagnonna durante il concerto e il libro già parlava appunto di questa tragedia e di fronte a questa proposta siccome parecchio che lavora lavoro nel teatro avendo diretto pièce teatrali e anche scritto per il teatro mi sono sentita diciamo in grado e ho pensato di essere in grado e di avere anche la volontà e il desiderio di portare avanti questo progetto e quindi in quel momento diciamo credo questo sia stato diciamo il motore trainante che mi ha fatto arrivare proprio al salto dalla direzione teatrale a quella cinematografica una domanda per agustin e costanza rispetto a clementina tra l'altro dimenticavo di presentare anche luisa tutta colpa mia ma dicevo quindi una prima domanda più generale clementina verrà proiettato questa sera lo ricordo alle 19 e 45 al cinema greenwich è un film che rappresenta un'avventura produttiva cinematografica abbastanza unica che intimamente legata al contesto in cui è stata realizzata no ovvero durante la pandemia ecco potreste raccontarci come nasce come si è sviluppato questo progetto all'interno di quel contesto così specifico e peculiare come quello della tiden in video la romana e è durante la pandemia noi con Agustin no viviamo all'interno allora ilование Il formaggio della film sta vinculato anche con il inizio di nostro vincolo, di nostra relazione e sta molto marcata per la maniera in cui si è legato la filmo. Lo interessante, credo, di quello che ci succedì è che come i due venivano del Independiente, io della danza e del teatro e del teatro e del cinema, ci siamo acostumbrati a lavorare con lo minimo e indispensabile e fare che queste obstruzioni sia una cosa che impugna hacia delante i progetti e non che frena la produzione. Quindi credo che qualcosa di questo ci aiuto a poter lavorare in un contesto dove non teniamo nada excepto noi due e una camera. Io parlo italiano tanto per... Salve a tutti, come è iniziato il progetto? In realtà il film durante la pandemia, come è stato detto, noi abbiamo iniziato il nostro rapporto, nella nostra vita insieme proprio durante la pandemia e questo è coinciso, il film è coinciso anche con questo, quindi inizio del film è inizio del nostro rapporto. E ha coinciso anche tutto questo, ha anche influenzato molto e supportato quello che è stato il modo in cui si è evoluto il progetto ed è arrivato a compimento in quanto film. E quindi il punto è che noi in realtà veniamo tutte e due da un mondo indipendente, sia cinema sia teatro, nel senso io Costanza nell'ambito della danza e del teatro, Agustin teatro e cinema. Quindi essendo abituati, siamo abituati a utilizzare proprio pochi mezzi, il minimo indispensabile per riuscire a portare avanti i nostri progetti, in modo tale in realtà che non blocchi, non freni l'evoluzione del progetto stesso, in modo da sfruttare, beneficiare di tutto quello che è il poco che abbiamo a disposizione. In questo caso abbiamo iniziato proprio da pochissimo, da poco poco con una semplice camera, una videocamera e un, anzi non avevamo neanche il supporto su cui metterlo, quello è arrivato dopo. Bellissima la traduzione, tu che avevi paura. Va bene? Sì, sì, è andata benissimo. No, soltanto per aggiungere, beh, in primo, cioè per primo dire anche, come ha detto Camila, che è un grandissimo onore essere qui in questo tavolo, cioè ormai con Martín siamo diventati amici, però lui è un personaggio molto importante, io so... Siamo da quanti anni? Eh, da tanti, eh sì, però è la prima volta che siamo in una situazione del genere e lui è come una specie di eroe per noi, per i cineasti della nostra generazione, quindi è importante anche essere qua seduti accanto a lui. Io non avevo mai fatto regia cinematografica, anche se venivo da anni di lavorare con i miei compagni del Pampero, che credo voi li conosciate, avete visto i film di Mariano Ginaz, di Laura Cittarella e forse di Aleppo Mogiscianski, forse si sono visti un po' meno qui a Torino, però comunque li conoscete. Io facevo regia quando lavoravo in teatro, quando facevamo i film del gruppo, io ero solitamente il direttore della fotografia, però a un certo punto ci siamo incontrati con coni rinchiusi come tutto il mondo, un'attrice danzatrice e uno che scrive e fa la fotografia. Avevamo dei piani teatrali insieme che si sono fermati quando il virus è comparso e a un certo punto ci siamo detti, beh, cominciamo a fare qualcosa. Io mi ero portato a casa una macchina da presa perché io sono un cameraman e mi sono detto, beh, c'è questo casino nel mondo, forse è una buona idea avere nella casa una telecamera, così se succede qualcosa c'è qualcosa che mi permette di documentarla. Ci siamo messi a giocare un po' con la telecamera all'interno della casa, siamo riusciti a fare un cortometraggio, l'abbiamo fatto vedere ai miei compagni del Pampero e ci hanno detto subito, sì, questo va benissimo, però non può finire lì, deve continuare. Qua avete originato una cosa che merita una continuazione. E allora ci siamo messi a girare senza sosta, abbiamo avuto una quarantena proprio molto febbrile, non nel senso che avevamo la febbre, ma nel senso che si lavorava tutto il giorno, tutto il giorno la casa è diventata un studio da riprese, non so come si dice, e lì c'è il fine. Giulio ci ha scoperti nel primo momento, questo bisogna anche dirlo e bisogna anche ringraziare lui perché è stato come una specie di angelo. Oggi lo farò comunque nella proiezione, tu prega tutto quel che vuoi, però io lo farò comunque. E lui ci ha scoperto, ci ha veramente spinto a continuare perché ci ha creduto al progetto fin dall'inizio e questo a noi ha dato molto entusiasmo e siamo molto grati di questo. Grazie Per Martin una domanda allora rispetto alla pratica che sarà programmato questo pomeriggio, proiettato questo pomeriggio alle 17.30 al Cinema Greenwich è il primo film in assoluto realizzato nella tua carriera al di fuori dell'Argentina, più specificamente in Cile e volevo sapere intanto la ragione di questa scelta, dunque perché andare a girare all'estero, pur se in un paese vicino come appunto il Cile e il secondo aspetto è che il tuo film naturalmente conserva intatta tutta la singolarità, tutti gli aspetti peculiari del tuo cinema che ritroviamo ma con una leggera differenza, a mio modo di vedere, di tono. Ovviamente rimane una commedia con elementi malinconici sullo sfondo ma ho l'impressione che in questo caso specifico rispetto alle tue opere precedenti ci sia una maggiore voglia di leggerezza dove gli elementi malinconici restano sullo sfondo, vengono in qualche modo evocati ma gli elementi di commedia, di leggerezza sono ancora più forti e più marcati, come se in qualche modo questa voglia fosse anche legata al personaggio protagonista e al particolare momento di vita che sta vivendo, che viene raccontato nel film. Ci sono due domande, una perché non ho girato in Argentina, perché ho girato in Cile e l'altra perché c'è più commedia in questo film. Sì, sei d'accordo ovviamente. Sì, sì, sono d'accordo, però parlerò in spagnolo, perché sarà più semplice per me. Sì, la idea di filmare in Cile non fu... Osea, il guion della pellicola, quando empece a scrivere il guion della pellicola, la pellicola transcurre in Argentina. De hecho, io conosci a Agustin perché lo chiamé per che mi aiude a scrivere questo guion, dopo aver avuto a vedere una obra di teatro di lui che si chiama «Los talentos» hace molto tempo. E tu mi dici quando devo fermarmi così, poi tradurre. Sì, che marco. E iniziamo a scrivere il guion durante un tempo, però io sono molto individualista e terco, e in un momento diciamo, bueno, sigo solo, però la collaborazione di Agustin fu superimportante e ci sono scena di la pellicola scritta per lui che stanno in la pellicola. Lui non vio la pellicola ancora. Però in un momento, bueno, dejavamo di scrivere i giusti, e lì... No vio. No vio. E lì decidì cambiare il luogo dove succede la aczione e passare tutto a Cile. E questo è per molti motivi. Uno, il più... Mi dici, fermate, sì. Il primo motivo è che la mia pellicola anterior, «Dos disparos», della quale Camilla fu una delle attrici più importanti, fu una coproduzione con Cile. Fue la prima coproduzione minoritaria con Cile. Quindi, sempre hai che pensare, quando uno scrive per cinema, hai che pensare come produire le pellicolano. È sempre molto difficile, soprattutto questo tipo di pellicolano. e pensé, ok, posso conseguire dinero in Cile, posso conseguire dinero in Cile, a lo mejor è una buona idea filmare in Cile, posso conseguire più dinero in Cile. Per supuesto che esos pensamenti non funzionano e tutto sarà al revés. E tardé 4 anni in conseguirei il fondo chileno, però, bueno, finalmente salió. Quindi, avevo una idea di produzione in un principio, però, anche avevo una idea di agotamento per me di filmare in Argentina, in quanto a actori, locazioni, lugares, e anche avevo molti gani di ascoltare a parlare di altra forma, con un altro acento. Il acento chileno è completamente diverso del acento argentino. È una lingua, praticamente, è castellano, è spagnolo, però si parla distinto. E ho voglia di ascoltare una musicalità differente. Trabajo sempre molto con una musicalità di dialogo in le film, e mi gustava l'idea di fare questo cambio. Vado? Sì. Ok. Dunque, per quanto riguarda il film, diciamo che fin dall'inizio, fin da quando ho incominciato a scrivere la sceneggiatura, diciamo che, e la sceneggiatura, scritta naturalmente, ero ancora in Argentina, naturalmente, e ho chiamato, non c'è più, non c'è più, chiedo scusa, e ho chiamato, in realtà, Augustin, gli ho chiesto, di darmi una mano anche a scrivere la sceneggiatura. E siamo andati avanti per un po', però, siccome io sono molto individualista, a un certo punto, ho continuato poi, in realtà, a scrivere da solo, e Augustin, tra l'altro, non ha poi visto il film compiuto. E quindi, insomma, in realtà, per quanto riguarda, è una coproduzione, il fatto è che, quando è incominciato a scrivere, quando si incomincia a scrivere un film, o pensare a un progetto, una delle prime cose a cui si pensa, è anche la produzione, come si potrà produrre il film, dal punto di vista proprio della produzione, o coproduzione che sia. Il mio film precedente, Doses disparos, di cui Scamila è una delle attrici principali, più importanti, era stata una coproduzione, una prima piccola coproduzione cilena. E quindi, è una delle cose importanti, e io ho pensato anche, e questo è uno dei fattori che è entrato, nella decisione poi, di girare in Cile, nel senso che, ho deciso, pensando alla produzione, pensavo qua, produzione in argentino, produzione in Cile, poi, in realtà, c'è stato questo aiuto, diciamo, del fondo cileno, cileno, che mi ha permesso di fare il film. Ma è stato anche il fatto, che in realtà, ho deciso di avere un altro sguardo, perché si tratta anche, utilizzando anche attori, e luogo, insomma, ho deciso di utilizzare attori, location, luoghi, set, insomma, locali, anche perché si tratta di tutto un altro respiro, anche per quanto riguarda proprio la lingua, hanno un altro accento, non solo, praticamente, sì, parlano spagnolo, però, hanno un'intonazione diversa, perché è come se fosse un'altra lingua, anche se parlano spagnolo, perché i dialoghi hanno una musicalità diversa, da quello che è lo spagnolo, che per esempio è parlato in Argentina. E a me interessa molto sottolineare, io lavoro molto con la musicalità del dialogo, e per questo ho deciso di fare proprio un salto completo, dall'Argentina al Cile, mostrando qualcosa di completamente diverso. Benissimo. Sì, sì, soltanto non so se hai detto che ho conosciuto Austin, che l'ho conosciuto quando... Sì, l'hai detto? Sì. Ah, ok. È importante. Una domanda, faccio, a mio anticipo, una domanda che avevo previsto per più tardi, ma mi interessa farla subito, e quindi una domanda che rivolgo a tutti voi, istintemente. Pur non potendo parlare, insomma, di un vero e proprio sistema cinematografico, non esistono movimenti, c'è una grande vitalità, un grande fermento, ma allo stesso tempo non possiamo ricondurli ad una unità di intenti. Direi che sono, come dire, tante esperienze singolari e uniche, ma che hanno a che fare con i vostri percorsi individuali. dicevo, nonostante tutto questo, vi sono una serie di elementi, di motivi, di aspetti, di attori, di luoghi, che ritornano costantemente nel cinema argentino e che dialogano tra un film e l'altro. Penso, ad esempio, in termini di attori, a Esteban Miliardi, che è il protagonista della pratica, ma anche il coprotagonista dello Sdelinquentes, presente fuori concorso sempre qui a Torino, Camilla Peralta, che è la protagonista di Clara si pierde nel bosque, ma anche di Cambio Cambio, di Lautaro Garzia, che potrete scoprire sempre nel focus nei prossimi giorni, fa anche una piccola apparizione in Puan, i luoghi, la casa di Clementina, che è in qualche modo una casa ultracinematografica, una casa dove sono stati realizzati diversi film, tra cui Los Delinquentes, tra cui Shakti, il cortometraggio di Martin Redman, è un appartamento che in qualche modo dialoga costantemente con tanto cinema argentino, e poi la stessa Camilla, l'abbiamo fatto riferimento poc'anzi, ha recitato con Martin in Dos Disparos, insomma, in realtà di elementi ne sarebbero tantissimi, ma volevo chiedervi a cosa secondo voi era dovuta questa condivisione di aspetti comuni, di questo dialogo, più o meno consapevole, ed esiste in qualche modo un ambiente culturale, cinematografico, comune, forse legato a Buenos Aires, piuttosto che all'Argentina in generale, ma che rende possibile questa circolazione di aspetti, di luoghi, di idee, di volti, e anche direi di linguaggi artistici, visto che poi sia Camilla che Martina, ad esempio, condividono anche appunto la pratica letteraria, la scrittura, ma anche il dialogo con il teatro, nel caso di Agustini, della danza per Costanza, insomma, non so se è chiara, sì, 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 non so se è chiara la domanda, però insomma l'idea è che tutti questi elementi che ritorno ne sono ricorrenti, pur non essendo riconducibili a un movimento, ad un gruppo unitario, da cosa secondo voi sono resi possibili? C'è un ambiente culturale cinematografico che è legato alla città o a un determinato tipo di ambiente che rende questo scambio possibile? Non so chi vuole rispondere per primo. C'è un ambiente culturale, sì, cinematografico e teatral, abbastanza unido, però tutti gli attori o tutte queste caratteristiche di cui parlate hanno a vero con un tipo di cinema in l'Argentina, non hanno a vero con un tipo di cinema industriale, dove lavorano altri attori e si produce di altra forma. Credo che ha a vero con che hai due mani di produzione in l'Argentina, almeno due, o tre, tal vez, si parliamo del pampero più independente che la maniera in cui lavoro io, per esempio, però non c'è un solo cinema argentino, c'è un cinema argentino, e a lo mejor questi actori e questi nexos che incontraste hanno a vero con questo altro tipo di cinema argentino che è il che sta reflejato in la muestra qui in Torino, in le filmi che stai mostrando qui in Torino. In le filmi di Rodrigo, Rodrigo Moreno, per esempio, è un'unico che è stato in cinema independente hace moltissimo tempo e trabaja in maniera distinta del pampero, trabaja più parecido a come lavoro io, tal vez, e è di altra generazione, Camilla è una generazione molto più nuova, Agustina è una generazione intermedia, non so, però sempre è un cinema completamente differente del che, per esempio, ha oggi Santiago Mitre, che è un'unico che viene di questo stesso campo, però che è passato a un cinema industriale, con actori più conosciuti, tal vez, o actori più di televisione, o di un cinema industriale. Nosotros, digo nosotros, non so se sta bene, tendiamo a lavorare con actori più cercani, tal vez amici, e con cose più cercane, con, sì, non solamente actori, sino a locali più cercani, con lugares meno, sì, una produzione meno industriale, di un cinema argentino. Chiaramente ci si può parlare più o meno, cioè c'è un ambiente culturale, cinematografico e teatrale, che però in realtà non è uniforme, unito e univoco, diciamo, nel senso che se vogliamo parlare di cinema, non è che ci possa parlare di un unico, del cinema argentino, ce ne sono due o tre diversi, diciamo, di tipologie di cinema argentino, c'è un qualcosa di più industriale, c'è un qualcosa, e gli attori, attrici, insomma, attori e attrici a cui si può fare riferimento, sono, diciamo, divisi, sono identificati a seconda, diciamo, di quella che è la tipologia di cinema, che può essere, di film e di cinema, che viene fatta, nel senso, ci sono produzioni che sono più industriali, produzioni più indipendenti, in mezzo, diciamo, e produzioni più indipendenti, come per esempio, non tutti sono indipendenti, come il Pamperossine, e così via, e quindi non si può parlare di un cinema solo, e gli attori, insomma, le persone che hai citato, che hai nominato, che hai elencato, in realtà rientrano in una specifica tipologia di cinema, è quella che facciamo anche noi, nel senso che non è industriale, ecco, e poi, per esempio, Camilla, non è che si possono indipendere Camilla, è recente, diciamo, come acquisizione, a Augustin, siamo intermedi, però, voglio dire, noi continuiamo a fare questo cinema che cerchiamo di lavorare al contrario di personaggi come Santiago Mitra, che ha iniziato come, nel cinema indipendente come noi, che poi adesso invece si è spostato verso un cinema industriale, e lavora con stelle, diciamo così, come star del cinema, parliamo anche internazionale o argentino, noi cerchiamo, quello che cerchiamo di fare, è continuare a lavorare con attori che siano, persone che siano che nostri amici, a noi vicine, e lavoriamo quindi anche con gli accadimenti, con gli eventi che ci circondano, con le cose che ci circondano, quindi un qualcosa di meno industriale, quindi non vi è questa, diciamo, netta condizione di visione, ecco. Camilla, Costanza, Agustin, se volete aggiungere. Un solo, un chiquito. Si. No, che, diciamo così, sembra che in Argentina, se non venivano mai siamo tre persone, ma siamo molti. E, è questo che diceva Martín, di, 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 capì. di, stata nella moda perché, besondere vista del mezzo di Martín, di, ma, e tutto questo termina di una maniera confluendo, non so si è tutto in un mismo punto è certo che c'è una cosa medio una specie di endogamia creativa in Buenos Aires magari più puntualmente e questo è interessante e a la volta il unico peligro che vedo se ho dovuto di buscare uno è che questo si cerri demasiado in si stesso e che terminiamo solamente vedendo lo che facciamo io credo che questo non passa perché siamo qui però magari dentro di questo tan lindo che tiene anche questa specie di alerta e volevo soltanto aggiungere in realtà detto così sembrava che siamo quattro gatti nel nostro ambito in realtà anche il cinema indipendente raccoglie parecchie persone e personaggi e quello che volevo dire è corretto condivido quello che è stato detto però posso anche dire che in realtà ci sono esperienze magari individuali che poi come per esempio in vari ambiti come Martini in cinema Agostino anche in teatro che poi possono confluire che confluiscono in quella che è una creatività comune in determinati modi e devo dire che a Buenos Aires c'è una grande creatività diciamo per adesso possiamo anche dire su base individualistica o di settoriale forse tra virgolette però vorrei che sottolineare il fatto che si potrebbe nel senso che può correre un rischio il rischio è quello che le varie visioni si richiudano in se stesse e vedano solo se stesse per ora non è ancora successo perché altrimenti non saremmo qui però è un rischio da tenere in conto ciao no io aggiungo soltanto che per me cioè io sono completamente d'accordo con quello che hanno detto Martini e Camila quando cioè io sono andato in scuola a studiare cinema e poi con una specie di voglia di di aprire un po' più di più il campo mi sono messo a studiare teatro e mi sono cioè tuffato nell'ambiente del teatro indipendente di Buenos Aires Portegno negli inizi degli anni 2000 secondo me lì la mia vita è cambiata completamente perché lì ci ho trovato una cosa che secondo me nel cinema non c'era o almeno io non avevo l'occasione di vederla o di trovarla tranne forse esperienze che in quel momento erano veramente eccezionali come i film di Martini che è perciò che io ho detto quelle cose che l'hanno fatto scomodo perché perché in quel momento adesso ci sono delle delle pratiche delle procedure che sembrano abituali o normali perché c'è tanta gente che gestisce le cose in questo modo però in un momento cioè negli anni 90 erano molto eccezionali nel cinema invece nel teatro c'era questo questo rapporto di collaborazione permanente di permanente permeabilità tra progetti e tra sempre più complicato aiutami dai e tra e tra ruoli cioè era molto 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 frequente vedere in un pezzo teatrale uno che lì fa la scenografia poi in quest'altro pezzo scrive e recita in un terzo cioè queste queste cose succedevano succedono sempre nel teatro indipendente e questo che parlava con i prima questa abilità per fare cioè per per fare delle costrezioni come si dice delle cioè no no quando sei costretto a quando sì per fare di quello una forza è una cosa che secondo me noi abbiamo preso Camilla fa anche teatro Martín miracolosamente non ha mai fatto teatro però io conosco bene il suo gruppo di amici e sono praticamente ce ne sono più nei tuoi amici più più prossimi ce ne sono più registi teatrali di registi cinematografici più o meno almeno quelli che conosco io cioè lui è uno che è sempre stato legato molto strettamente agli attori e ai registi di teatro indipendente di Buenos Aires e i suoi film sono stati sempre pieni di queste facce che si trovano molto spesso nelle sale teatrali di Buenos Aires che nei film più commerciali e appunto è stato secondo me è stato importante quella differenza che Martín ha segnato tra forse due tipi di cinema che si fanno e i nostri film per fortuna sono cioè i film che appartengono a questo diciamo secondo gruppo se teniamo in conto le possibilità economiche che hanno questi film per fortuna sono i film i film che finiscono per essere più accolti in certi festival quindi quello cioè molto bello molto importante anche per noi ci sono domande non esitate abbiamo ancora un 15 minuti di tempo si buongiorno Valentina Testa Cinedams io volevo chiedere riguardo a Clementina dal momento che parliamo di un film realizzato in quarantena quindi molto legato al vissuto reale dove si pone il confine tra la finzione e la realtà grazie grazie della domanda posso parlare di quello che mi sa che noi abbiamo trovato noi non siamo artisti programmatici nel senso che abbiamo voluto dire qualcosa e abbiamo utilizzato il film come una via per dire delle idee che erano preesistenti noi non crediamo molto a questo invece crediamo ai progetti che si sviluppano e ci insegnano qualcosa a noi che stiamo a farli quello che abbiamo trovato è stata una specie di che a me sembra forse la cosa che mi fa più orgoglioso di questo film è una specie di collaborazione o di coesistenza di una di delle circostanze tremendamente documentali cioè nel senso che nel film trovi cose che solo se sei un po' distratto puoi pensare che erano scritte e che sono state sai messe in scena per soddisfare una sceneggiatura che era scritta prima quindi il film è andato sempre dietro alla realtà come i neorealisti come l'esempio di quei grandi cineasti italiani che sono che hanno forse cominciato no? che hanno forse aperto le porte a questa possibilità che la finzione vada dietro alla realtà e ne prenda la forza ne prenda una forza che è impossibile da raggiungere se se poi il film crea da sé cioè tutto il contesto che di cui ha bisogno come funziona il teatro nel teatro noi scriviamo qualcosa poi chiamiamo uno scenografo lo scenografo crea un ambiente determinato e la finzione si svolge in quello scenario il cinema invece il cinema invece ha questa possibilità di certo cinema ha questa possibilità di prendere dalla realtà una forza che altrimenti con i mezzi della finzione non si potrebbe raggiungere e che solo il cinema è capace e beh questo elemento c'è in Clementina ma poi se la vedete vedete il film vedrete che c'è un linguaggio attorale che si allontana un po' dal realismo e Coni è riuscita a creare un personaggio che è un po' lontano dal registro realista e secondo me quello il più bello è la cosa forse più originale è una specie di punto di incontro tra Jacques Tati Buster Keaton e poi non so il neorealismo nel senso che c'è questo se tu vedi io l'ho visto l'ho rivisto fra poco ma vedi lati di biciclette per citare un marmo e c'è la piccola storia dentro la grande storia e noi penso abbiamo cercato di trovare qualcosa del genere nel senso la piccola finzione dentro l'appartamento in questo momento così eccezionale del mondo in cui tutto era cambiato in un modo così e c'è questa idea di mettere un linguaggio molto affettato molto stilizzato che anche il rapporto che il film ha con la pittura romanica a noi è servito a questo avete visto che la pittura romanica è una pittura molto come che la chiamano c'è una parola per questo ieratica ieratica in un senso questa cosa frontale no è molto stilizzata molto stilizzata senza senza alcun alcun resto di realtà e noi credo siamo riusciti a combinare questi due linguaggi senza però creare una frizione grazie riuscendo a non so a combinare qualcosa di di solido nella sovrapposizione di queste due di questi due registri mi ricollego alla domanda quindi per un'ultima domanda a camilla e a martin perché effettivamente la domanda che è appena stata posta mi pare colga un punto interessante e comune a tanti film argentini che abbiamo selezionato quest'anno in particolare dentro il focus che appunto si chiama il gioco della finzione perché appunto ritroviamo lì dentro un gioco un dialogo costante fra una dimensione del documentario del reale e di come il cinema in qualche modo interviene la finzione interviene a trasfigurare reinventare questo dato reale ovviamente ciascun film del focus e anche in altri film argentini della selezione lo fa a modo suo e seguendo strade totalmente personali nel caso di Camilla quello che mi interessava visto che i due aspetti quello documentario e quello finzionale sono entrambi molto marcati molto presenti entrambi nella duplice traiettoria insomma del film e della protagonista però mi interessava una domanda più specifica che è legata all'articolazione dei supporti dei supporti tecnologici il film presenta materiale d'archivio di diversa natura messaggi vocali whatsapp immagini d'archivio che si riferiscono appunto agli inizi degli anni 2000 ma anche un'articolazione come dire dei supporti il film ha computer telefoni cellulari una minicamera di V che ritorna anche nel presente quindi la domanda che le volevo fare era appunto una riflessione l'utilizzo perché l'utilizzo ad esempio di una minicamera di V nel presente del film che è un elemento un po' come dire anche incongruo temporalmente e perché dunque questa ricerca della protagonista del filmare qualcosa che non sa ancora come filmare ma con questo tipo di telecamera che si riferisce a 20 anni prima dunque con una ricerca del filmare che non ha una vera e propria direzione ma che in qualche modo però utilizzando questo supporto di riflettere su un'estetica anche degli anni 2000 che si riferisce al mini di V e in generale di riflettere anche sull'articolazione dei vari dispositivi come fosse un'archeologia dei dispositivi e ne approfitto mentre traduce fare anche già la domanda a Martín così guadagniamo qualche secondo di tempo il tuo è un cinema evidentemente più di finzione pura apparentemente però mi interessava sapere quanto della materia narrativa dei tuoi film afferisce anche al tuo vissuto al tuo percorso personale e quindi nel caso specifico della pratica ad esempio nella scelta di utilizzare lo yoga ponendolo al centro del film del film di utilizzare perché ha decidito la mini di V che ha fatto la mini di V che ha fatto la protagonista Grazie. Grazie. Ese pasado, digamos, esa adolescencia tan pregnante para ella en estos 30 años que ahora tiene, 30 y pico, es algo que aparece como son pantallazos, como presencias fantasmales de alguna manera. Entonces es como si esas imágenes que ella registra en esa cámara tienen la textura, digamos, y el color que tiene el pasado, digamos, porque es una cámara medio vieja, es una mini DB que filma no tan nítido, no es tan high definition. Entonces es como, yo creo que tiene que ver con esa especie de obsesión que tiene ella con el pasado, ¿no? Como si quisiera convertir ese presente en ese grano, en ese color más retro, menos definido. En términos prácticos quizás podemos decir simplemente que es porque tiene esa cámara, ¿no? Pero yo creo que sí, que si se busca un poco más tiene que ver con eso, que está como agarrada a eso y no puede avanzar. Si se volgamos guardar la cosa en términos más metaforicos, digamos que riguardo todo lo que es esta especie de conflito que Clara, la protagonista, proba por lo que riguarda el significado que porta con sé con la imagen del pasado, el pasado que ha vissuto y el significado que assume por ella cuando llega a esta etapa, ella hace 30 años, un poco más de 30 años, e assume in questo il momento della sua vita in cui deve affrontare il futuro e la sua vita presente e futura e questo passato che è una presenza quasi da, sono immagini come se fossero un fantasma proprio, fantasmi del passato che continuano a essere presenti nella sua mente diventando un'ossessione. Lei è per questo che riprende, al di là del termine pratico, del fattore pratico che lei riprende queste immagini utilizzando una mini DV perché questo è il supporto che ha, ma se si vuole andare nel profondo di quello, analizzare la sua mente, la sua intenzione, la sua visione, lei praticamente è come se volesse attribuire quella che è il colore, il tessuto, la texture, proprio la grana del passato alle immagini del presente che attraverso questo supporto tecnico, che ovviamente sappiamo aveva una resa diversa perché non aveva una resa di alta definizione. E quindi una specie di ossessione diventa al contrario, nel senso come convertire il presente in quel passato che è un fantasma che la perseguita e quell'estate passata che cerca in questo modo con cui cerca di confrontarsi. Grazie. Martino. Allora mi hai chiesto che cosa c'è di finzione, era una domanda corta, puoi farla ancora? Sì, dicevo ovviamente nel tuo cinema questo dialogo con il reale sembra più segreto, più invisibile, non è direttamente legato per esempio all'estetica del film, il film ha un approccio che è propriamente di finzione, di ritmo, di coreografia e quant'altro, però mi sembra l'impressione che appunto molti aspetti narrativi del tuo cinema siano in qualche modo legati o abbiano un rapporto anche con il tuo vissuto, quindi ti chiedevo se nel caso ad esempio dello yoga che è l'elemento centrale del tuo ultimo film fosse in qualche modo anche questo legato ad un aspetto come dire personale. Sì, sì, exactamente sì, bueno, mis películas di ficzione sono sempre ficzione e, de hecho, dejan poco lugar, o sea, ningún lugar para la improvisazione, in general, para los actores, Camila lo può attestiguar, generalmente, sempre hai un guion con dialogos escritos che si respetano al pie della letra, inclusive non solamente le parole, sino le comas, le pausas, o sea, il ritmo, o sea, è qualcosa che già ho pensato durante la scrittura del guion, quindi hai molto poca posibilità di intervenzione di qualcosa ajeno a questo, in questo aspetto. sin embargo, per esempio, in la pratica, come dijiste, e in tutte le mie altre filmi ci sono molti elementi personali, autobiografici, e non anche di storie che mi conto gente cercana a me o a familiari, o, diciamo, il materiale che uso è un materiale molto ampio che passa da mia autobiografia a la biografia delle persone che ho cercano, o le storie che mi contano, o le cose che leo in i giorni, o sea, è un materiale molto ampio realmente. In la pratica credo che usate più cose personali che in altre filmi, per esempio, mi relazione con il yoga, che pratico hace molti anni, più di 20 o 25 anni, e, in realtà, scrivo il guion pensando nel protagonista della film, Esteban Bigliardi, perché tiene un certo aire di famiglia conmigo, di alcun modo, mi ricordo che mi madre fu a verlo al teatro hace moltissimi anni, e mi diceva che non poteva creare aver visto un actor che era tan parecido a me, in questo momento, o sea, come diceva, è come un hermano tuo, me diceva. E sempre quise scrivere qualcosa per lui, giocando un po' con questa duplicità. E poi, sì, come molte cose che passano in la film mi passano a me, non vorrei fare spoiler ora. E durante molti anni fui a un retiro di yoga nel nord di Chile, e di allì surge un po' la idea della film. In realtà, la idea della film surge di tantissime cose differenti, non c'è una sola, però, bueno, è così. Sì, nel senso che c'è, senz'altro, parlando di finzione, in generale, quelli che sono i miei film sono di finzione, e scritti con grande attenzione e precisione, fino all'ultima virgola, punto, pausa e così via, e chi ci recita, insomma, tutti coloro che lavorano nei film devono attenersi perfettamente, Camillo lo sa, a quello che è scritto. Il che vuol dire che non lascia spazio all'introduzione di qualcosa di esterno, improvvisazione e così via. Però il materiale che io utilizzo per i film è molto ampio, perché effettivamente c'è materiale autobiografico, cioè cose che possono essere successe a me, o biografico, cioè cose di persone che sono successe, o mi hanno raccontato persone a miei vicini, amici, conoscente e così via, cose che ho letto. E quindi utilizzo tantissimo materiale che introduco, appunto, nella finzione, e soprattutto la pratica è stato il film in cui effettivamente ho introdotto cose molto personali, più di tanti altri film, e in questo caso, come hai detto tu, la pratica della yoga, che è una pratica, insomma, lo yoga io lo, che mi piace molto, e lo pratico da parecchi anni, e che anche il... e quindi sono tante cose che sono successe a me, non voglio dire, ne sono successe di tutti i colori, alcune cose che ho inserito nel film sono successe a me, non dico che cosa per non spoilerare, ma è anche il personaggio, no? Esteban Biliardi, che è il protagonista che fa Gustavo, è lì anche perché, e che ha dovuto imparare assolutamente a fare yoga e così via, e lì anche perché ha quest'area familiare, nel senso che mia madre era andata a teatro a vedere una pièce teatrale in cui recitava, per lui anche attore di teatro, e principalmente attore di teatro, Esteban Biliardi, e torno a casa e mi disse che aveva visto questo attore che era assolutamente uguale a me, insomma, mi assomigliava a sputate, per questo che ho pensato di introdurlo nel film, proprio perché aveva quest'area di famiglia, così, insomma, gli accadimenti che accadevano a lui erano quelli che erano accaduti a me, e in questo caso, sì, effettivamente, il materiale è parecchio autobiografico. E quindi, vi ringrazio, ringrazio tutti voi, e voi ovviamente per essere rimasti con noi, vi ricordo gli appuntamenti di oggi con il Focus e con il cinema argentino, dunque alle 17.30 la proiezione di, la pratica al cinema Greenwich, a seguire alle 19.45 sempre al cinema Greenwich, la proiezione di Clementina, e ricordo, inoltre, la seconda proiezione, la replica di Clara Sevierde nel Bosch, che si terrà sabato 2 dicembre alle 17.30, sempre al Greenwich. Grazie a tutti, buona giornata.